bentornati l'ultima volta abbiamo visto come si inseriscono i sottotitoli in una sessione di premiere questa è la nostra traccia con tutti i sottotitoli inseriti che sono poi questi qui ora però facciamo una doverosa aggiunta che avrebbe dovuto essere inclusa in quel video ma colpevolmente non l'ho messa perché nel momento in cui noi andiamo a esportare c'è un passaggio in più che è obbligatorio ora qui vedete nell'anteprima di esportazione che i sottotitoli ci sono questo perché io sono andato nella sezione sottotitoli e ho selezionato masterizza sottotitoli nel video di default anche se io ho inserito dei sottotitoli quello che mi trovo è opzione di esportazione nessuno quindi io sono qui così e vedete in anteprima che non ci sono i miei sottotitoli per cui io devo andare nella sezione sottotitoli e inserirli e ora vediamo infatti che compaiono a questo punto sono pronto per esportare grazie grazie grazie